Uccisione confermata In cui mi trovo meglio E con caricatori aumentati Diventa molto molto pratica Oggi siamo in InterSension Anche questa è una mappa molto recente A meno per noi che giochiamo su Playstation 3 Però non mi piace Sì è bella ma dipende con cosa giocate Tipo vedete io adesso qua Sono già bloccato Ci sono praticamente quattro edifici principali Intanto il tizio sta arrivando Ma non ho intenzione di andare Dovrò aspettarlo per forza Perché lo so che è un gioco un po' schifoso Ma non ho scelta Comunque stavo dicendo Questa mappa non mi piace tanto Perché ha spazi troppo aperti Ok sta arrivando perfetto perfetto Allora Adesso vedete devo aspettare qua Il punto ideale Viene? Vieni? Sì Ok Questo vedete è un prestigio 15 Scaraca con una cosola Quindi ragazzi sarà una partita veramente tosta Dovrò impegnarmi al massimo Non so se riuscirò neanche a vincere Ma comunque spero di portarmi un buon replay lo stesso Allora adesso ho perso anche il vantaggio Quindi sono totalmente svantaggiato Ecco Che arriva Però lo si è messo la pistola Quindi E vai Da buon uomo si è messo la pistola Potrei avere qualche chance E' bello vedere le reazioni di tutti questi giocatori no? Ci sono tanti che stanno molto al gioco E può essere divertente Poi vediamo quanto ci sarà anche questo Questa arma comunque Oltre che avere una Un'ottima portata Oddio Ecco avete visto Quello adesso mi sta sparando con un bellissimo scaracca Con il cardio Vabbè E l'ho ucciso comunque Con questa pistola Poi Un'altra cosa Per chi proprio non le usa no? Perché comunque sono armi Molto meno potenti Delle mitragliatrici Leggeri Secondari Delle mitragliette Volevo dirvi Aspettate che l'uccido Vedete Vedete quanto è forte Pistone Incredibile Cioè Lo sto battendo uno Tranquillamente Di prestigio 15 Adesso dovrebbe Cioè io lo sento Con anche qualche vantaggio In quel senso Vedete che campano un po' Ma cercherò di aggirarlo adesso Guardate che diverso Queste sono le cose che mi divertono Girare gli avversari Oddio ha già abbandonato Beh Per oggi è tutto Comunque volevo dirvi Per chi non usa le pistole Usatele perché Quando cambiate arma Si tirano molto più in fretta fuori Che le pistole mitragliatrici Per oggi ragazzi mi dispiace Ma è già tutto Speriamo Di portarvi qualcosa di meglio Nella prossima serie Cioè nel prossimo video Che prossima serie Oh Vabbè Sono già andato fuori tempo Ciao a tutti Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti